Rinnovo per le convenzioni tra amministrazione comunale di Taranto e le scuole paritarie dell'infanzia. L'assessore alla pubblica istruzione Deborah Cinquepalmi ha incontrato presso la direzione pubblica istruzione della comune i rappresentanti legali degli istituti. Nei giorni scorsi sono state rinnovate le convenzioni in scadenza e si proseguirà a breve con quelle che termineranno nel corso dell'anno. A seguito dell'approvazione dei criteri per il riparto regionale del Fondo per l'avvio e l'attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha commentato il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il comune erogherà un contributo a favore delle strutture che si impegneranno ad abbattere in tutto o in parte la compartecipazione delle famiglie per il mancato accesso al servizio per tutto il periodo dell'emergenza in corso. Il contributo ammonta a 90.000 euro. In questo momento, commenta l'assessore Cinquepalmi, qualsiasi misura può essere una boccata d'ossigeno per questo settore strategico che fa parte del sistema pubblico di istruzione, particolarmente penalizzato dall'emergenza coronavirus che accoglie tantissimi studenti. Le scuole paritarie che hanno deciso di sospendere le rette sono Girotondo, La Cicogna, La Fiaba di Peter Pan, Maria Ausiliatrice, Maria Immacolata, Selene, A Piccoli Passi, Il Mondo dei Piccoli. Le scuole paritarie che hanno deciso di abbattere in parte le rette sono Giuseppe Nigro, gli amici di Winnie Pooh, Santa Rita da Cascia, Cerchio Magico. L'assessore Cinquepalmi ha inoltre incontrato il presidente provinciale della Federazione Italiana Scuole Materne di Taranto e Brindisi, Vincenzo De Leonardis, che ha espresso apprezzamento nei confronti dell'amministrazione comunale per l'impegno profuso in questo periodo di pandemia Covid-19.